... Ma cosa? Finocchio, vieni vicino a me. Cosa? No, non ho più che per poi questo naso così lungo. Finocchio, perché non provi a dire la verità? Eh, va bene. Ecco le monete. Non ci sono. La verità! La verità è uscita e il gatto è rientrato. E' un po' che esistono. Insomma, i piedi è rientrati e ci sono meglio a ciò che accadono per le cose. Non mi chiuso a me. Un bambino. Ma che devo fare? Potresti cambiare? Viene qui. La verità è uscita e la verità. La verità è uscita e il gatto è rientrato. Grazie a tutti.